Se non è frustrante essere in aula, mentre nelle piazze di mezza Italia, in quasi totale tranquillità, perché ribadisco e ribadirò sempre che la violenza non è mai giustificata e non è mai la soluzione, mentre noi siamo qua a votare, il Presidente del Consiglio è in televisione, non è normale, dovrebbe essere sensibil... Mi scusi, si tranquillizzi. Senatore Lora, vi domando, vi domando se ritenete normale, al di là delle urla di qualche 5 Stelle nervoso, che mentre il Senato e la Camera stanno lavorando, il Presidente del Consiglio si faccia gli attori qua in televisione, non è accettabile, non è normale, è un insulto a milioni di famiglie, a milioni di lavoratori. Il Presidente del Consiglio Salvini si mette la mascherina. Io mi metto la mascherina. Voi vi dovreste mettere la maschera per vergognarvi di coprire una situazione surreale. Conte, c'è l'Italia col fiato sospeso, ci sono toxisti, commercianti, lavoratori della cultura e dello spettacolo. Noi siamo qua a votare, alla Camera, si sta votando sull'omotransfobia per darci l'idea di come qualcuno viva su Marte, mentre i problemi degli italiani sono i problemi di questa terra. e Conte non è in Senato, non è alla Camera, ma è in televisione, senza Casalino perché è a casa. Non è accettabile. Andate avanti voi a lavorare in questa maniera e a prendere in giro gli italiani. Noi usciamo da questa aula perché il Senato ha ancora una dignità. Buon lavoro e abbiate vergogna se non siete ancora capaci. Grazie. Grazie.